Bentornati sul nostro canale! Oggi video tutorial di una ricetta facile e veloce che ha suscitato grandissimo successo sul nostro profilo Instagram. Andremo a preparare insieme i cornetti al cioccolato. Noi proporremo la versione dolce, ma ovviamente si può riprodurre la stessa ricetta in versione salata, indicata per aperitivi o snack veloci. Iniziamo subito con il tutorial! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ed ecco i cornetti appena sfornati ragazzi! Sono davvero buonissimi! La cucina invasa dal loro odore e non vediamo l'ora di assaggiarli! Adesso tocca a voi farci sapere che cosa ne pensate di questa ricetta e taggarci su Instagram sui vostri cornetti! vi mandiamo un grosso bacio e vi mandiamo un grosso bacio e al prossimo video! Ciao!